Tornano all'auditorium Vincenzo Damassa Carrara di Porcari il teatro e la grande musica con i nomi della scena nazionale grazie alla rinnovata collaborazione tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. La rassegna Profumo di Scena in programma da domenica 23 aprile a sabato 13 maggio è stata presentata in municipio dal sindaco Leonardo Fornaciari, dall'assessore alla cultura Eleonora Lamandini e da Tommaso Artioli della Fondazione Toscana Spettacolo. Sarà il modo migliore di inaugurare gli spazi dell'auditorium dopo i lavori PNRR in dirittura di arrivo in questi giorni, ha spiegato l'assessora Lamandini. Una rassegna che chiaramente si svolge in un periodo inusuale dell'anno ma che abbiamo fortemente voluto proprio per la qualità dell'offerta. È un modo non solo per riaprire come dicevo prima l'auditorium ma anche per rinaugurare la stagione della frequentazione del teatro dopo tre anni di chiusura, tre anni in cui chiaramente i teatri non erano stati vissuti come le persone speravano. Si parte domenica 23 aprile con Lella Costa in Se non posso ballare non è la mia rivoluzione. Sabato 6 maggio sarà la volta dell'imitatore livornese Dario Ballantini che porterà in scena i personaggi del grande Petrolini. Sabato 13 maggio si chiude con l'ensemble di ottoni e percussioni dell'orchestra regionale della Toscana che rivisita in chiave jazz la musica di Johann Sebastian Bach. Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.